Il Salone delle Feste che si sta preparando, vedete che ci sono alcuni ministri, ci sono tutte le altre cariche istituzionali, ma come dicevamo all'inizio sono presenti qui anche tutti i rappresentanti delle associazioni di solidarietà laiche e cattoliche, appunto per tornare al discorso di prima, che in Italia si occupano di tutti i problemi delle persone che più hanno difficoltà, quindi i senza tetto, gli immigrati, i bambini, i minori con difficoltà, le persone anziane, le menze e questo è stato proprio voluto da Napolitano proprio per far conoscere al Papa non solo l'Italia delle istituzioni, ma anche l'Italia della solidarietà. E naturalmente ci sono anche esponenti nel mondo della cultura, intellettuali, credenti e non credenti.